Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Iniziamo dall'autostrada in a 11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In Fipilì un chilometro di coda per lavori verso il capoluogo tra Empoli ed Empoli Est. Siamo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Il treno regionale 18659 Pistoia-Firenze è partito con 38 minuti di ritardo. Per il traffico urbano di Firenze, per il miglioramento della qualità dell'aria dal 1 giugno, i veicoli diesel, autovetture e trasporto merci N1, N2, N3, Euro 5, immatricolati dal 2009 fino al 2011, non possono più circolare nell'area individuata del comune, dove le centraline elettroniche di rilevazione hanno registrato ripetuti sforamenti dei tassi di biossido di azoto, diviato in vigore dall'unità al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Per i dettagli sull'area individuata vi rimandiamo ai nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.